Devo eliminarlo e passare al prossimo. Conto alla rovescia? Qualcuno qui ha paura? Deve esserci qualcosa di importante se ti stai difendendo così! ... ... ... ... ... Miles Sì? Chi è? Vieni qui, Miles Da dove arriva questa voce? Non devono arrivare al cuore Come va, Spider-Man? Ho quasi finito di ripulire il nido Ma, Pete, ho iniziato a sentire le voci Le sento anche Continua a cercare il meteorite Non farti influenzare Quello non è Henry che parla Giusto Hai ragione Avvisami quando hai finito Fa attenzione, Pete Tempo sta finendo Vieni con noi Altri dieci secondi Ti prego, funziona È andato Fuori Miles Devi aiutarci È ancora in Ti prego Non ci credo Parla con me Vieni con noi Ma che diavolo Dove sono? Sei a casa Finalmente Sei nel posto giusto È questo che si prova quando si diventa simbionti Qui sei assicuro E anche le persone Li ami La testa Devo trovare l'uscita Perché vuoi andartene? Siamo qui Resta con noi Tu Peter Noi Non è il posto per me, Henry È nemmeno per te Forza, Miles Forza Hayley Che stai facendo? Per favore Vieni con noi Sono fuori Hayley Nei guai Pete Ho visto il meteorite È sotto la stazione di Arlen Vicino al ponte Ci vado subito Aspettami, ok? Henry Vuole te Io vado da Hayley Ma tu aspettami, ok? Ehi, ehi Viano Cos'è successo? Sono stato risucchiato nella coscienza collettiva Ho visto il meteorite Sotto terra Ho un brutto presentimento Credi che Henry sia lì? Dico sul serio, Pete Dammi dieci minuti Non puoi farcela da solo D'accordo, chiamami quando hai finito Scusa, Miles Ma non posso perdere tempo Mi basta scomprare questo ponte Restate tutti nelle vostre auto Vi proteggerò io Henry! Venom! So che sei qui Ci hai trovati? Sì Ecco, mio amico Aiuto Lo so Tu Tieni duro Arrivo Avanti, avanti Escono dal tunnel Della metro Il meteorite deve essere sotto terra Venom! Ti prego Parlami! Devo andare di sotto Ma non posso lasciare questa gente In due! Proprio ora! Non ho tempo da perdere Forse potrei No Ragiona, Spider-Man Ci siamo quasi Henry! Mi senti? Ti troverò, amico Sto arrivando Il tunnel Della metro Ehi Hailey è in salvo Non ancora Dammi soltanto qualche minuto Tieni duro Ehi No Che cosa ci fai qui? Io sono venuto a salvarti Sei incredibile Mi piaci da morire E credo sia reciproco Ti andrebbe di uscire Solo io E te Sarebbe un sì Beh Allora è deciso Appena Questa storia sarà finita Pit Pit Sto arrivando Pit Harry Ciao sono Harry Lasciate un messaggio Ehi amico Ho parlato con Connors Dice che ormai sei andato Ma io so che non è vero Harry È colpa mia Sono stato un idiota Il tuo Anzi Il nostro sogno Curare il mondo Il schienzo Oddio Peter Sei venuto Sono qui Sei pronto Finalmente Harry Io posso Io voglio aiutarti, Harry Spider-Man, dove sei? Sei lì sotto Avevi ragione, deve essere per forza qui Louis, mi dispiace, non potevo Lo so, amico, cercherò un modo per entrare Andrà tutto bene, staranno tutti bene Devo arrivare al meteorite, sono vicino Peter! Harry! Harry, parlami! Aiutaci, Peter Abbiamo bisogno di te Ci sto provando Mi serve giusto quel meteorite, ok? Miles, niente sassi No? Aspetta, ci sono quanti Benvenuto, Pete Vogliamo mostrarti una cosa? Harry Cos'ha? Siamo guariti Siamo liberi Condivideremo questo dono Con tutti Ma tu devi aiutarci, Pete Curiamo il mondo Is here E' troppo Non si fa Dobbiamo andarcene Se la fai? Dobbiamo chiamare MJ So dov'è il meteorite MJ Dobbiamo vederci a casa di May Com'è la situazione, ragazzi? E' il meteorite su cui è arrivato il simbionte Lo sta usando per mutare la città Io so dov'è E dobbiamo rubarlo Ci serve un piano Ci sto Ci vediamo a casa Ci vediamo a casa Ciao Cari ascoltatori, vi supplico, restate in casa. Chiudete le porte, barricate le finestre. Non fidatevi di nessuno. La città è invasa da una sfissiante miasma tentacolare che filtra dal terreno, dando vita a creature che sembrano uscite dall'inferno. Ci vogliono rapire e convertire, per poi sottometterci. Non possiamo permetterglielo. Mentre il governo Tenkinna, i miei fedeli ascoltatori si sono riversati online per scoprire se queste mostruosità abbiano dei punti deboli. Ci difenderemo da soli. Del resto non possiamo certo sperare nell'aiuto degli Spider-Man. Se c'è qualcosa che gli eventi di questa settimana ci hanno chiaramente dimostrato, è che gli eroi creano problemi invece di risolverli. Nel frattempo, siate prudenti e occhi aperti. Ce la faremo. New York non si arrenderà senza combattere. E io resterò qui, al vostro fianco, in prima linea. A presto, sperando di rivedere l'alba insieme.